Ciao a tutti, quali sono i tre killer che rovinano le relazioni d'amore fino a distruggerle del tutto? Prima di passare al tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e seguimi anche sul mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, secondo le tradizioni orientali, ma non solo, esistono, ci sono tre killer, diciamo così, che lentamente avvelenano la nostra mente per poi rovinare le relazioni sentimentali e affettive. Quali sono questi tre killer, questi tre fattori, potremmo dire, avveleni mentali? Allora, il primo è l'avidità. Esistono ovviamente dei normali desideri, delle richieste che ogni giorno facciamo al nostro partner e che speriamo vengano soddisfatte. Le, diciamo, le persone avide tengono tutto per sé, sono avide non soltanto nelle, diciamo, nelle cose materiali, ma diventano avide anche, diciamo, nelle relazioni sentimentali e affettive. Quindi danno poco, tengono tutto per sé. L'avidità è un killer che uccide le relazioni sentimentali. Il secondo killer è la rabbia. Covare rancori, covare risentimenti, essere erosi, poco tolleranti, non avere pazienza. La pazienza va coltivata. È evidente che in una relazione con un'altra persona, soprattutto nelle relazioni sentimentali, la pazienza è importante. Senza pazienza non fai niente. Cioè non riesci a fare nulla se non sei paziente, se ti nutri di rabbia, ti nutri di rancori, ti nutri di risentimenti. Quindi dobbiamo eliminare, dobbiamo veramente eliminare. Altrimenti non riusciremo a vivere nessuna relazione per un tempo sufficientemente lungo. E un altro killer è l'assenza. L'assenza, cioè non essere presenti. Perché in una relazione che funziona bisogna esserci. Se non ci sei, ovviamente tenendo conto di tutti i fattori presenti, tutti i fattori possibili e immaginabili, la distanza, la cosa, ma bisogna esserci, non soltanto fisicamente, ma la presenza è qualcosa che va oltre, ad esempio, l'esserci fisicamente. Poi ci sono persone che convivono, sono presenti assieme, ma non ci sono. Esserci vuol dire entrare in empatia profonda e emotiva con l'altro. Ecco, questi sono i tre killer che ne basta uno solo, se poi ci sono tre, è un massacro generale delle relazioni. Quindi, se ci rendiamo conto che ci sono questi tre killer, è importante prendere delle contromisure, altrimenti rischeremo veramente di rovinare una relazione. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale, Felicità Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Ciao a tutti.